bella a tutti ragazzi sono da Mirko ben tornati su Ghibli channel e su Occupy Mars allora ragazzi quest'oggi ci proviamo questa versione beta che gli sviluppatori mi hanno mandato per cui li ringrazio tantissimo perché insomma sono particolarmente interessato a questo titolo vi avevo già portato la demo e vi avevo già anticipato quanto potesse essere nelle mie corde diciamo un simulatore di sopravvivenza su Marte me l'hanno appena mandato ragazzi quindi lo registro al volo senza neanche guardarlo perché giustamente non ho avuto purtroppo tempo allora c'è la partita libera vabbè facciamo la partita libera allora a livello di difficoltà no mettiamo assolutamente quello più facile attrezzatura di partenza io farei turista così tanto per riuscire a magari far qualcosina qua figata possiamo scegliere anche il sito di atterraggio molto bello andiamo a Cerberus che mi ispira perfetto allora abbiamo i sistemi di supporto vitale attivi quindi direi di fare inizia così vediamo un attimino se hanno messo qualche filmato qualcosa non ricordo se nella demo c'era qualcosa ma non mi pare adesso qua siamo 20 nello spazio inizia vibra tutto ok stiamo scendendo su Marte piglia fuoco tutto mamma mia che bordello che bordello vibra tutto la miseria la miseria vediamo se ce la facciamo atterrare abbiamo una marea d'attrezzatura vedo davanti a noi abbiamo anche dei medikit un estintore sono un bel po di cosettine ok dai la parte più brutta è passata adesso vediamo l'atterraggio va giù ad asi e va giù ad asi ok eccoci arrivati e possiamo già ammirare Marte adesso questa è la partita libera no che scherzavo che la fase più brutta è passata questa è la parte peggiore mazza che botta o ammazza e botta ok siamo atterrati ok when the sequence completed abbiamo completato la sequenza d'atterraggio e vediamo un attimino che cosa ci fa fare prendi il martello prendi il rilevatore spettrale ok alla mazza i sensi sono scusate devo abbassare un attimo la sensibilità del mouse perché è a palla video suoni controlli vediamo a era qua forse dove che stavano valora partita sensibilità mouse ok abbassiamo un pelo perché mamma mia qualcosa di assurdo ok vediamo così se va meglio si infilino meglio dai allora martello pneumatico lo prendiamo poi metti via un attimo questo prendiamo questo qua che è la segha elettrica ok no tirami via tirami via tutto tirami via dove cacchio sta allora dammi sul 5 ok ho mollato giù un cavo ho mollato giù un cavo no ma sì io lo vorrei prendere il cavo scusami molla giù come come faccio a prenderlo con la e ah sì ok con la f accendiamo la torcia va bene sì ma io lo vorrei mettere via fosse no vabbè per adesso lo lasciamo qua ce ne può frega di meno va bene così va bene così allora poi la fiamma ossidrica la fiamma ossidrica dovrebbe essere questa ma non vedo il puntatore fiamma ossidrica ok e sul 6 prendiamo il rilevatore spettrale che non ho la più pallida idea di dove c'è madonna c'è una marea di roba eccolo qua rilevatore spettrale ok perfetto nuovo messaggio tieni premuto tab per leggerlo ok abbiamo il nostro palmare raccogli gli oggetti per costruire da tutti gli scaffali delle capsule e va bene è questo l'abbiamo fatto credo dovremmo averlo fatto immagino poi abbiamo progetti albero tecnologico quindi qua possiamo fare tutte le varie cose e quindi sbloccare tutto l'elettricità la botanica e materiali la meccanica insomma c'è una marea di roba ovviamente da sbloccare va bene raccogli oggetti per costruire tutti gli scaffali ok ma questi abbiamo anche tutte le cose qua la malta c'è la madonna quanta roba ma do quanta no che scherzavo questo è vuoto vediamo questo è vuoto anche questo va bene allora penso di aver prendere tutto giusto prendiamo la malta ok prendiamo l'elettronica perfetto abbiamo preso tutto ok si puoi togliermi ecco la roba grazie allora apriamo lo sportello io vado e apro apri zio apri ok abbiamo aperto perfetto raccogli una scatola qualsiasi ragazzi il primo passo su marte mamma mia bello è però che spettacolo che spettacolo molto molto bello che così ci abbassiamo con la v abbiamo anche la visuale esterna o che vabbè le animazioni sono ancora un attimino lignosette allora va bene raccogli tavolo da lavoro boh pigliamo il tavolo da lavoro ok lo hanno aspetto devo raccogliere a queste intende che frantumatore di rocce piccolo questa e dice raccogli una scatola qualsiasi io l'ho raccolta la scatola qualsiasi quindi che ce lo fa a ok l'ho fatta a perché dovevo mettere l'inventare che trova una zona con presenza d'acqua allora devo prendere il file si buonanotte il rilevatore spettrale che era no questo all'abbiamo già trovato ok presenza d'acqua a premendo y mentre usi il rilevatore spettrale quindi così ok madonna però e si fa fatica a leggere le scritte più che altro ok che dovrebbe essere la giusto sì che credo di sì no 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 aspetta che cacchio ho fatto messo via scusatemi ragazzi ok luoghi da falda acquifera fuori portata vabbè devo andare la insomma ma scusatemi ci vado con rover ce l'abbiamo ci abbiamo già quel rover non ha senso che ci vado a piedi anche perché l'ossigeno non è che ne ho tantissimo ci abbiamo già il rover con tutto quanto aspetta la dose entra la porta la porta apritemi allora mettiamolo via un attimo io sempre paura di tutta la roba per terra dov'è che era qua usa ok usa perfetto no questo apro mamma che figata però si apre tutto ragazzi che spettacolo molto bello mi piace un sacco mi piace veramente veramente un sacco dove da dove cacchio è che dove entrare era di qua ok l'entrata era di qua mi ricordo era qua va a fan bagno ok ho sbagliato lato allora apri benissimo allora saliamo un attimo su chiudi ok chiudiamo perfetto allora usa buona ci siamo ci siamo sì però così non vedo dove stava la cosa la falda qui farò è qua dietro vediamo un attimo se me lo dò lo stesso sulla mappa vediamo un attimino allora vediamo la visuale esterna però io così no non vedo più un cacchio no odio la telecamera è abbastanza strana che questa da utilizzare perché è sensibilissima però io così non vedo uno stracacchio di nulla scusate un secondo aspetta fammi fammi scendere un attimo ok allora fammi usare questo ed era ok alla mia destra e poi sempre dritto per chi mi sa che non posso usarlo quando cioè mi sparisce quando non ho in mano il sensore spettrale però era di qua in linea di massima andiamo un po' avanti di qua e poi e poi vediamo tanto dovevo fare cos'è 300 e passa metri 350 metri quindi faccio un pezzettino e poi andiamo a vedere ovviamente ragazzi è un survival di base quindi abbiamo la fame l'idratazione ovviamente l'ossigeno per cui dovremmo preoccuparci di preservare tutte le statistiche del nostro personaggio e di conseguenza bisognerà fare molta attenzione si vedete sparisce poi quando è si riattiva ok 92 metri beh dai qua vicino quindi direi che possiamo fare ancora un pezzettino con il piedi tanto qua 90 metri quindi più o meno dovrebbe essere quasi vediamo anche già il terreno decisamente più scuro ok scendi giù fammi verificare che sia quasi perfetto allora quindi fa così togli sto coso apri e proviamo proviamo a vedere dove sta ok no ma che cacchio sbaglio sempre tasto allora miglior luogo falda acquifera costruzione pozzo ah l'ho già piazzato qua ma io non volevo piazzarlo non volevo far sta cosa ho sbagliato perché ho premuto il sinistro e me l'ha piazzato direttamente qua ok o posso metterlo qua e qua già va meglio qua va già meglio sì però mi serve tutta la roba io come faccio adesso a distruggere quello che ho messo forse con la se no questo lo costruisce con la fiamma ossidrica ok lo smantello con la sega circolare scusate mi è casciucato tutto ok quindi con questo abbiamo smantellato il progetto per cui mettiamo giù il progetto e poi penso lo saldiamo giusto credo sto sto pigiando ah sì ok sta saldando perfetto salda 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 e qua abbiamo il nostro pozzo ok presenza acqua sulla mappa va bene ce l'abbiamo allora questo si auto alimenta in teoria sì perché il pannello solare e infatti in realtà già funziona da quanto vedo usa ok produzione immagazzinato 417 riempi bottiglia d'acqua nessuna bottiglia d'acqua da riempire nessuna bottiglia da riempire ok ho bisogno delle bottiglie allora se non mi ricordo male tra una zona con presenza d'acqua però non capisco perché mi dice ancora di trovare la zona l'ho trovata io la zona l'ho trovata zio la zona è qua ma non basta costruire il pozzo mannaggia sto continuando a costruire pozzi pozzi a nastro qua aspet costruisco pozzi come come se non ci fossero domani allora i progetti li abbiamo qua ok sì quindi abbiamo il pannello solare il trasformatore di luce eccetera eccetera ok li seleziono dal tablet direttamente perfetto io magari visto che qua abbiamo un bel pozzo mi farei un campetto base qua poi al massimo posso tornare con rover a prendere le cose che eventualmente abbiamo lasciato indietro direi di costruire il pannello solare ok così questo ce l'abbiamo volevo capire se abbiamo una sorta di casetta magari allora risorse cibo hub principale incubatrice per piante non abbiamo tipo un prefabbricato a corridoi e camere d'equilibrio io vorrei costruire qualcosa vorrei fare a questo punto faccio l'incubatrice per le piante principale però vorrei fare prima o eccola qua c'è il laboratorio vaffan bagno che ce l'avevo ma è abnorme sto coso è abnorme sto coso ragazzi ammazza è grandissimo vabbè mettiamolo qua mettiamolo qua giù il progetto vediamo un attimino se posso costruirlo in teoria si dovrei avere tutto per costruire esatto almeno le cose me le dava tutte le varie risorse ci impiega ovviamente un sacco di tempo è una struttura enorme però almeno un laboratorio ce l'abbiamo in teoria dovrebbe essere un qualcosa al chiuso dovrò però collegargli la corrente dovrò poi fornirgli tutto ossigeno acqua tutto quello che serve insomma allora il laboratorio ce l'abbiamo e fino a qua mi fa piacere mo dovrò capire come stradiamine ci entro io nel laboratorio perché allora qua mi servirà ovviamente mettergli su una porta perché la porta adesso non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo allora intanto posso prendere credo il cavo ok andare a collegare un cavo qui apri presa ok e qua l'abbiamo messo prendi l'altro cavo e questo dovrei collegarlo dov'è che c'ho la presa qua no qua mi sa che ci vuole aprire la porta si non so se posso collegare acqua eccolo qua ok e qua e qua allora acqua collega spina ossigeno eccolo qua ok apri presa e tac perfetto perfetto usa ah ok ai fusibili a scatole fusibili a che figata fusibili insufficienti sì giustamente però è su on quindi in teoria l'energia ce la dovrebbe avere ora manca solo giustamente la porta manca solo la porta quindi quindi direi di andare a vedere nei progetti se ho qualcosa che mi può tornare utile allora cibo sarà dove c'erano i corridoi no hub principale corridoi corto con finestra corto ma io non voglio un corridoi oh camera d'equilibrio eccola qua camera d'equilibrio perfetto dovrei mettergli penso questa giunto corridoio no penso che mi serva questa no sì esatto esatto che va messa qua perché deve fare ovviamente la decompressione tutto quanto va bene quindi attacchiamogli questa ok perfetto è questa la camera di equilibrio ok ce l'abbiamo ma ah sì infatti usa ok e sì e infatti vedete che mi ha fatto l'equalizzazione della pressione ok usa posso chiudere no ah si chiude in automatico ok avviso di bassa pressione sì non c'ho ossigeno giustamente quindi mi sembra giusto nessuna struttura mamma mia quanta roba mamma mia quanta roba fornitura oraria vabbè qua non c'ho niente quindi giustamente gli dovrò mettere tutto ma è fighissimo comunque veramente bello veramente bello sto coso allora cioè pensate dovremmo poi costruire tutto tutte le varie strutture dargli energia ossigeno tutto quanto è veramente una grandissima grandissima figata ora ovviamente dovrei andare a fornirgli per l'appunto l'ossigeno ok allora dicevamo vediamo un attimo progetti allora eh sì infatti infatti va messo all'interno giustamente va messo all'interno ok proviamo a farlo vediamo un attimino cosa ci fa perfetto allora apri ok usa avvia ok sta lavorando posso riempire la bombola di ossigeno ok questo per fare le bombole di ossigeno eh questo che roba è non ho idea io sto spipolando cosa a caso vabbè chiudi chiudi la porta qua chiudi la porta che fa curente no ma questo non credo che però mi fornisca ossigeno eh allora l'errore richiede energia eh quindi mi sa che senza energia perché mi chiede eh sì perché mi chiede in totale mi sa 14 adesso ne ha 12 e 21 credo eh quindi ho bisogno di altri ehm come si chiama bisogno assolutamente di altri pannelli solari ho bisogno di altri pannelli solari perché mi sa che l'energia non basta assolutamente ma proprio neanche per idea eh allora tornami un attimo indietro vediamo se riesco a fare giusto un altro pannellozzo solare quello medio sarebbe l'ideale perché questo mi sa che fornisce ben poco però vabbè io provo a farne un altro qua ok e magari ne farei anche un altro qua a sto punto a sto punto facciamone anche un altro qua vediamo se questi bastano anche se ne dubito però io ce provo eh non mi ricordo adesso se possiamo andare a collegare insieme ma eh questa cosa non la so missa di no però perché abbiamo un unico eh un unico filo quindi devo creare una sorta di trasformatore un qualcosa del genere vediamo un attimo progetti trasformatore esatto o anche batteria quello indubbiamente però il trasformatore in teoria ci dovrebbe servire per collegargli tutte le varie ehm fonti di energia con un'unica uscita esatto esatto perché qua abbiamo le prese eh non so se sono quelle in ingresso e poi dovremmo avere all'altro lato tutte quelle in uscita esattamente o il contrario adesso poi capiamo un attimino capiamo un attimino come sono messi allora io direi di far così quindi stacchiamo un attimo questa che tanto di qua direi che non serve perfetto e l'andiamo a collegare ma vediamo se di qua o di là perché mo mi sta venendo dubbio ma credo di qua in teoria sì esatto ok poi mi dai altri cavi e me ne attacchi apri presa tac uno qua ok dammi il cavo lo mettiamo qua nella seconda ok e infine dammi cavo lo mettiamo nell'ultima vediamo se così riusciamo a produrre abbastanza corrente per il nostro trasformatore poi ci serviranno ovviamente le batterie per accumulare però quantomeno quantomeno no questo volevo capire un attimo ok entrata pannello solare 5 10 15 quindi in totale forniamo cioè produciamo 15 kilowatt non so se mi bastano per per tutta la struttura proviamo a fare questo collegamento ragazzi poi vediamo come detto il titolo è veramente interessante mi intriga un sacco mi intriga veramente no scusami ma non l'hai preso il cavo mannaggia mannaggia dove cacchio l'emesso qua dal mio cavo poi devo capire come si ritirano i cavi perché ho fatto un casino con sti cavi ho fatto un groviglio assurdo però vabbè poi lo capiremo ok di qua sta uscendo ma di là non mi pare che fosse collegato però chiudi quello bravo ok no è collegato è collegato al 50 per cento 7 kilowatt e mezzo a perché quasi giustamente possiamo anche dare le percentuali a tutte le varie cose collegate alle varie strutture quindi io posso togliere di qua e andare a aggiungere kilowatt ad esempio alla struttura che mi interessa aggiungere quindi il laboratorio allora vediamo se così forniamo abbastanza energia proviamo un attimo teoria dovrebbe avere credo delle luci no qualcosa del genere vediamo avviso di bassa pressione per l'appunto non ho idea se qua vabbè che quando non ho niente perché non ho strutture rilevate quindi probabilmente gli dovrò fare delle luci immagino qua dentro un palo della luce no magari qualcosa da interno non ho idea se ci sia qualcosa di da interno sinceramente la stazione di pompaggio no devo metterla devo metterla fuori e va bene volevo capire se c'era una qualche luce qualcosa del genere ma non lo so qua abbiamo comunque la macchina per modifica semi che possiamo fare non ho tutti i materiali richiesti ok ci mancano piastre di alluminio quindi a questo punto dovrò andare in giro con rover e iniziare a scavare le varie rocce per riuscire per l'appunto a come si dice a farmi i materiali che giustamente mi servono per riuscire a per l'appunto insomma craftare gli oggetti le varie strutture molto bello mi piace veramente un sacco mi piace veramente un sacco a una marea di roba da fare a ok ecco anche perché mi sa che a livello di pannelli solari non stiamo più producendo nulla perché è notte quindi probabilmente anche per quello comunque come dicevo mi piace veramente veramente tanto perché come detto ha una marea di cose da collegare bisogna fare un sacco di collegamenti dell'acqua dell'ossigeno dell'elettricità e queste cose piacciono veramente tanto perché poi vabbè adesso ho fatto una roba proprio buttata così a caso giusto per provarlo ma sicuramente sarà da quanto vedo un qualcosa di bello complicato e da studiare bene perché poi come vedete si può suddividere la corrente insomma alle varie zone che ci interessa alimentare quindi bisognerà fare ovviamente delle dei collegamenti ben ragionati insomma non così a cavolo come li ho fatti io in questo momento ma bisognerà fare una cosa giustamente assolutamente sensata va bene ragazzi allora facciamo una cosa io però per il momento mi fermo qui con questo primissimo sguardo a questo titolo mi piace che una marea di roba si possa aprire abbiamo anche un'altra presa qua penso forse per le batterie del rover da caricare credo qua possiamo aprire a no ok qua è sempre per aprire lo sportello insomma c'è un sacco di cose spippolabili a me sapete che queste cose piacciono veramente veramente un casino quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate io volentieri posso fare diciamo altri video con questa versione beta per vedere un attimino anche il discorso dello scavo del rover perché dovremmo poi andare a fare minerali appunto con rover scavare trasportarli lavorarli eccetera eccetera e poi ovviamente creare tutto ciò che ci serve per il sostentamento quindi fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un sacco di like condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche se volete dare un contributo concreto al canale lo potete fare come sempre attraverso gli abbonamenti youtube attraverso o attraverso scusate il tastino grazie al di sotto di ogni mio video detto questo ragazzi io vi ringrazio i saluti ci vi chiamo al prossimo gameplay ciao belli